Buongiorno a tutti, oggi per vedere questo campanile di legno abbiamo un concerto di 5 campanili da 3 Adesso ascoltiamo suonare quelle 7.35, quindi fra il tempo faccio vedere Questi sono due campanoni, due menziane e la piccolina Adesso ascoltiamo distanza del campanone menziane alle 7.35 Quindi a presto dai no al campanaro minato e buon ascolto a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Quindi, saluto e saluto.